Karen Swan, Il segreto di Parigi, letto da Gabriella Marturano. Alla cara inimitabile Ziaflora, il miglior pessimo esempio che abbia mai avuto. Prologo Parigi, luglio 2016 Le nuvole coprivano la luna e ancora non si vedeva l'orizzonte. Tutte le luci, simbolo distintivo della città, erano spente, tranne quella sulla sommità della torre, che da sempre, anche di notte, ne contraddistingueva il profilo. I due uomini si muovevano furtivi sui tetti della mansarda, facendo attenzione a tenere la testa ben al di sotto della linea di cresta, con i corpi piegati su se stessi, come foglie d'autunno. Per i proprietari degli appartamenti sottostanti, immersi nel sonno, quei passi clandestini non dovevano sembrare niente di diverso dall'elegante andatura di un gatto. Non appena si accorsero dalle proprie ombre riflesse sull'altro lato della strada, i due si rannicchiarono immediatamente tra gli abbaini del tetto, contando le finestre del palazzo gemello di fronte. In silenzio srotolarono la fune, non appena gli uomini, con passo sicuro, pressero a muoversi, ancorandosi a un comignolo, i moschettoni attaccati all'imbracatura iniziarono a sbattere insieme, producendo un suono simile a quello di una campana metallica. Il primo uomo si sporse dal tetto, provando la sensazione familiare di sentirsi spinto verso il basso, non appena la fune si tese e la forza di gravità si fece avvertire in tutta la sua potenza. Prima di calarsi giù si fermò per un secondo, per controllare che la fune reggesse, poi iniziò la discesa utilizzando i piedi per scostarsi ogni tanto dal muro. L'altro uomo seguì a ruota il compagno, e in un attimo entrambi arrivarono all'altezza delle finestre coperte di polvere, che da tempo avevano attirato la loro attenzione. Per fortuna erano chiuse al buio, come avevano sperato. Il balcone alla francese era poco profondo, a malapena poteva trovarvi posto un vaso di rose, ma era sufficiente per appoggiarvi un piede, così i due misero in atto una complessa manovra per scavalcare l'elegante ringhiera dal disegno elaborato. Tenendosi in equilibrio, posizionarono le mani a coppa intorno al viso, e appoggiandole sui vetri, cercarono di sbirciare all'interno. Ma era come cercare di vedere attraverso il fumo. In lontananza udirono il suono di una sirena, e due uomini si irrigidirono improvvisamente, agguzzando l'udito, per capire da quale direzione provenisse il suono, e soprattutto verso quale direzione stesse andando. Non verso di loro, e questo era tutto ciò che avevano bisogno di sapere. Si rimisero subito al lavoro, appoggiando le mani coperte da guanti sulle porte finestre. Non c'erano maniglie all'esterno, e la porta interna non si spostò di un millimetro, mentre quella esterna, sufficientemente allentata, si mosse leggermente. Erano porte antiche, il legno era marcio, e vetri singoli, così sottili da andare in mille pezzi con uno starnuto. Il primo uomo si inginocchiò all'altezza del chiavistello, in modo da riuscire a scorgere chiaramente il sottile braccetto metallico di un vecchio fermaporta, l'unico elemento che separava l'appartamento dall'esterno. Afferrò il coltello dalla tasca su posteriore dei pantaloni, lo infilò con forza nella serratura, e diede un rapido colpetto verso l'alto. Il fermaporta si alzò, ruotò su se stesso e poi si arrestò, sbattendo leggermente. Erano dentro. In fondo si era trattato di un gioco da ragazzi, erano serviti soltanto una vista acuta, una fune e un coltello. Le porte erano rigide, a causa dell'incuria, e i cardini scricchiolarono pesantemente, una volta forzati, ma alla fine si erano aperte ed entrambi gli uomini erano penetrati all'interno dell'appartamento, calpestando il parchè del pavimento. Dopo aver acceso le torce sulla fronte ed essersi liberati dalle funi, iniziarono a muoversi silenziosamente per le stanze vuote. L'aria era così viziata da sembrare quasi densa, e non riuscirono a fare a meno di tossire, sebbene fosse fondamentale non produrre alcun rumore. In aggiunta, ad ogni passo mosso, vagando per l'appartamento, i due uomini lasciarono evidenti impronte sul pavimento, coperto di polvere, come orme sulla neve. Tuttavia, chi lo avrebbe mai notato? Nessuno, a eccezione di loro, era a conoscenza di quel posto. Era stato nascosto alla luce del sole, e il disinteresse dei vicini aveva senz'altro contribuito a perpetuare il segreto. Ognuno aveva dedotto che la proprietà appartenesse a qualcun altro. Del resto, non si può perdere un appartamento, non ci si può dimenticare di possederlo. Eppure, a qualcuno era caduto. Il primo uomo si fermò ad osservare la cucina. C'erano solo una sedia abbandonata, distesa sul pavimento, e una credenza vuota, con ganci simili a dita artritiche, piegate e niente al suo interno. Non c'erano pentole o padelle, secchi o stracci. Il luogo era stato svuotato. Delusi, si inoltrarono lungo il corridoio. Nel buio, i fasci di luce delle torce si intrecciavano l'uno con l'altro, mentre continuavano a cercare. Entrambi si fermarono sulla soglia della camera da letto. Contro la parete di fondo si trovava una rete di ferro di un letto, ma non fu quello a far accelerare il battito dei due uomini. C'era una grande cassa di legno alla fine della stanza, con il coperchio scheggiato nel punto in cui era stata fatta leva per aprirlo. Un piede di porco appoggiato ancora sulle doghe del letto. Si avvicinarono in fretta. Il primo uomo si è chiuso gli occhi, mentre leggeva un piccolo foglio di carta spillato al suo interno. La calligrafia, scritta a mano, era sbiadita per il sole, ma nella parte superiore era ancora visibile il nome di un'azienda e il logo vale. Aveva tutta l'area di essere una specie di bolla proforma. Dietro di lui, il secondo uomo inciampò in un oggetto disteso sul pavimento e barcollò pesantemente sbattendo contro il bordo della rete. Imprecando, si voltò irritato, raccogliendo l'oggetto incriminato. Pensò che fosse un semplice straccio. Invece, dopo aver dato un'occhiata più approfondita, realizzò che si trattava di un giocattolo per bambini. Un peluche a forma di anatra, con la testa ormai priva di peli, a causa dell'uso prolungato, il tessuto di spugna sbiadito per l'età e coperto da uno spesso strato di polvere. L'uomo starnutì immediatamente, facendo accadere l'oggetto a terra. Addio silenzio, pensò il suo compagno. Tanto valeva organizzare una festa e invitare i vicini. Porca miseria, disse a voce bassa, facendo luce all'interno della cassa e sporgendosi a guardare. Anche il secondo uomo, accorrendo immediatamente, illuminò con la torcia la cavità buia. Entrambi fissarono a bocca aperta il contenuto. Era molto di più di quanto potessero immaginare. Sbrigati, tiriamola fuori.